E' quanto mai significativo a mio avviso che ci sia in un certo senso un passaggio di testimone come nella staffetta, le staffette che abbiamo visto e nelle quali abbiamo visto anche primeggiare l'Italia nella 4x400 che ha conquistato il record italiano femminile naturalmente. In questo momento nel quale nelle Olimpiadi si parla molto di staffette è singolare che arrivi una staffetta particolare, Usain Bolt entra nella leggenda, 9 medaglie d'oro in 3 Olimpiadi consecutive, eguaglia il record di Carl Lewis. Ma voi vi chiederete che senso ha parlare di staffetta? E' presto detto, la staffetta sta nel fatto che una leggenda che diventa tale per un'altra che potrebbe diventare leggenda. E il passaggio di testimone passa da Usain Bolt alla Juventus. Juventus che inizia oggi il campionato di calcio con la sfida con la Fiorentina, la prima ufficiale sarà fra Roma e Udinese però. Ma Juventus che va verso la leggenda perché se dovesse vincere questo campionato arriverebbe al sesto consecutivo e non ce l'ha fatta nessuno in Italia.